Allora, ricomincia il girone di andata e a questo punto di ritorno, chiedo scusa, grazie al mister Ciro Iorio, inizia con una sconfitta come nel girone di andata contro la Coccinella. Sì, ricominciamo il girone di ritorno, una sconfitta così come hai detto te, 2-1 all'andata, 2-0 al ritorno, molto amarezza, molto amareggiato, è il secondo sabato di fila che dobbiamo giocare contro sei, purtroppo gli arbitri questa volta devo puntare il dito, sabato scorso non l'ho fatto, lo faccio oggi. Gli arbitri sono di categoria se veramente mostrano di essere arbitri, altrimenti io chiedo pubblicamente di vedere, rivedere un attimino tutto quanto, tutto l'organico degli arbitri come la serie C femminile. La serie C femminile è un campionato pari agli altri, non ha nulla da rivedere con i campionati maschili, quindi pertanto io chiedo formalmente che ci mandano degli arbitri all'altezza, già da sabato prossimo. Mister, le assenze comunque hanno pesato, non poco, poi costretta anche a rinunciare a una giocatrice che spesso si trova tra i pali, oggi in campo per le tante assenze, tra l'altro poi quando è stata chiamata in causa non è neanche sfigurata come sostituto ideale al momento di Romano nelle circostanze. Infatti abbiamo Matano oggi schierato a pivò, che anzi un plauso l'ha fatto proprio a lei, sempre giocato da portiere, oggi ho dovuto schierare da pivò in quanto sabato scorso due espulse per me, quindi io lo so, Matano quando vuole si impegna a giocare bene anche da pivò, non c'ha il passo e non c'ha i tempi dei pivò naturali, quale Romano, stasera avete potuto ben vedere Romano tutta la sposta laterale, non è che l'ho tolta dal campo. Purtroppo quando ci sono le assenze mi devo un attimino rimettere su una squadra che la provo a girare. Ci sono rientrati due ragazzi che erano fermi da manno, Treglia e Nardella, speriamo di riprendere al meglio subito il campionato già col Divino Amore il 5 gennaio nella gara di ritorno. Mister, potrebbe essere questa l'occasione non solo per ricaricare le pile, le batterie, ma anche l'occasione per rivedere qualcuna prima che ci sia la chiusura del mercato e soprattutto prima di tornare in campo. Il mercato nostro non è quello della Serie A, il mercato nostro è chiuso, è chiuso il 14 dicembre, quindi dovremmo vedere qualcuna svincolata. Ma già avendo le due squalificate in campo, già da sabato prossimo che è il 29 avremo un torneo fuori regione, quindi andremo già un attimino a serrare le linee, quindi vedremo un po' queste ragazze alla pari di altri coetani che sono della Toscana come vanno. Il team manager che è un fiume in piena sotto una pioggia in incessante, c'è qualcosa che non va assolutamente per il team manager del Sporting Club Maranola? Allora io è la seconda gara che faccio in panchina perché abbiamo purtroppo il nostro direttore sportivo che sta combattendo una gara più importante e qui facciamo gli auguri, è un amico, sta bene e gli auguriamo che, anzi gli auguro che mi venga subito a sto sede in panchina perché io non ci riesco a stare. Non è possibile, è la seconda gara che vengo in panchina, due arbitri di aprilia, non so se è una casualità che sono due volte consecutive che le cose non vanno. Ma non è che non vanno perché gli errori si prendono, ci sono, possono essere a favore, possono essere contro, ma qua è una, lo potete pure vedere con la cronaca, voi ce l'avete. È una direzione di gara su tante piccole cose che poi ti fa condizionare già, quando la settimana scorsa eravamo superiori e quindi siamo riusciti comunque a tamponare. Qua abbiamo incontrato una signora squadra che comunque sono anche intelligenti, sanno protestare bene, alzano la mano, sanno sempre a fare, e quindi sono intelligenti e quindi di conseguenza già non siamo alla pari, tecnicamente, probabilmente. E se ci mettono pure queste cose ti danno veramente fastidio. È una presa in giro che noi non vogliamo più accettare perché diventa veramente fastidiosa, soprattutto come spieghiamo noi alle ragazze, che il sabato si allenano tutta la settimana, fanno tanti sacrifici come gli altri sicuramente, e mi devono far capire a che gioco vogliono giocare, perché è una cosa che non può andare. Mi dispiace, è inutile fare i reclami in federazione e tutto, però non mi sembra una cosa rispettosa. Poi se ho detto delle fesserie, rivedete la partita, rivedete il falo di mano alla fine, che l'hanno visto tutti, pur i ciechi, vedete il discorso dell'espulsione di Treglia, che forse per la reazione non l'ho vista bene, stavo fuori, ci poteva pure stare, però comunque c'era un rigore clamoroso. Quindi io su questo, non più di tanto, torno a ripetere, si sbaglia, perché siamo persone umane e possiamo sbagliare. Però c'è proprio una differenza di trattamento e queste cose non vanno bene, non fanno bene al calcio, non fanno bene a nulla. Tutto qua. Allora mister, si ricomincia da dove si era lasciato, la vittoria nel recupero in settimana contro il San Lorenzo, ma questa formazione ormai si può dire che viaggia, ve le spiegate, nonostante il vento e soprattutto le condizioni del tempo. Veramente una prova, soprattutto per conquistare tre punti veramente pesanti di determinazione. Buonasera a tutti innanzitutto. Io come dicevo alle ragazze, prima dell'incontro, che non è che una squadra che mi faceva paura, ma la tamevo, fin dalla prima giornata, dove secondo me, gli faccio i complimenti, anche se sono cogliardiche in mezzo al campo, però già dalla prima partita ho visto che era una squadra molto compatta sulla fase difensiva e quindi necessitava una prova di carattere, tant'è vero che l'abbiamo proprio impostata in modo totalmente diverso dalla partita andata. Poi per il resto è chiaro che noi dobbiamo assolutamente conquistare questi tre punti, perché averli conquistati con l'Aurelia, avendo conquistato la semifinale della Final Four contro l'attuale prima in classifica, cioè sinceramente non è presunzione, ma mi sembrava più che normale che questi tre punti non porti a casa, anche se sono stati abbastanza sofferti. Ecco mister, la sofferenza però forse mai, come in questa circostanza, veramente diciamo sono punti importanti, sofferti sì, però qui è venuta fuori veramente la grande determinazione della squadra che magari si poteva e si cercava in altre partite, però qui veramente si è vista un grande gruppo. Questo è quello che la comune ha dagli anni precedenti, era già un grande gruppo per quello che mi ha preceduto precedentemente nel campionato scorso e negli anni passati, sicuramente ha formato un gruppo straordinario che però necessita di essere controllato, controllato. Per il resto posso dire una cosa, che queste sono attrici che lavorano sul campo senza copione e se hanno qualche punto in meno sono sincero, è solo colpa mia, però il segreto l'ho scoperto strada facendo, per il resto che gli devo dire? Sono ragazze straordinarie, meritano il posto in classifica che occupano e quindi c'è poco da dire. Mister, adesso arriva la pausa natalizia, però per voi non sarà una pausa, sì è vero è una grande festa da calendare, una grande ricorrenza, però c'è anche il lavoro che vi porterà proprio in queste settimane perché c'è da affrontare o meglio da andare a compiere qualcosa di veramente straordinario, fatto fino adesso anche con la conquista della Final Four dove voi vorreste arrivare in veramente con una grande carica. Lavoreremo questi giorni 27, 28, 2, 3 proprio per prepararci al meglio per questa competizione, però ripeto senza presunzione perché non è che devo fare carriera io, io le ho detto non so uno qua per partecipare, io so uno qua per vincere, indipendentemente poi da chi ci mette di più o di meno e quindi loro sanno benissimo che una volta arrivati lì ci devono passare sopra con i carri armati, ci vogliono buttare fuori, anche se ho sentito no perché ci hanno messo in una situazione, sai sembra quasi, no non sembra niente, noi andiamo là e andiamo per vincere, poi se perdiamo e perdiamo sul campo, complimenti agli avversari e non c'è problema. Con l'occasione vorrei fare tantissimi auguri sereni di buon Natale a tutti e sereno nuovo anno a tutti, speriamo che sia migliore anche se sappiamo quello che è passato, io mi accontenterò lo stesso. Grazie a tutti e buonasera.